Tra poco più di 24 ore il Grande Fratello vivrà una nuova puntata in diretta. Il 26 settembre scopriremo qualcosa di importante in riferimento a Ilaria Clemente, almeno stando ai rumori emersi in queste ore Per la concorrente si tratterebbe di una cosa forse insperata, ma a quanto pare ci sarebbe riuscita davvero e per tutti gli altri geffini ci sarà invece una grossa delusione Al Grande Fratello Ilaria Clemente sembra che si sia inserita a dovere nelle dinamiche. E la notizia che dovrebbe riguardarla, secondo quanto fatto sapere dal sito angolo delle notizie, è molto buona. Sarà Alfonso Signorini in persona a fare il suo nome e cognome davanti a tutti e a rivelarle una novità fondamentale Grande Fratello, grande notizia in arrivo per Ilaria Clemente C'è stato un sondaggio sul Grande Fratello effettuato nelle scorse ore e proprio Ilaria Clemente è stata la protagonista assoluta Altri due compagni di avventura non sarebbero stati al suo passo, dunque non dovrebbero esserci sorprese particolari E la donna certamente potrà esultare coi suoi fan. Come rivelato da angolo delle notizie, Ilaria Clemente dovrebbe essere la preferita del pubblico avendo totalizzato il 46% dei voti nel sondaggio Al televoto ci sono pure Giulia Bruschi e Iago Garcia, che hanno collezionato rispettivamente il 18% e il 36% delle preferenze Non resta che attendere la puntata in diretta per capire se queste premesse saranno mantenute Non ci saranno eliminazioni nemmeno nella prossima puntata, stando a quanto anticipato Ilaria Clemente, concorrente NIP, ha 30 anni ed è originaria di Roma Ha una laurea in Scienze Economiche Lavora come Cyber Risk Specialist per un'impresa automotive Ha una laurea in Scienze Economiche Grazie a tutti.